Ben trovati a TG Medesport Extra Large con il sorriso perché il Palermo ormai gioca le ultime partite di campionato con la salvezza acquisita. Bisognerà capire con chiarezza estrema cosa riserverà il futuro. Proveremo a parlarne quest'oggi, celebraremo anche una promozione di una squadra palermitana ed ecco perché ancora di più il sorriso in questo pomeriggio. Intanto il saluto all'inviato speciale del Corriere dello Sport, Salvatore Geraci. Ciao Salvatore. Ciao, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sì, un sorriso ci sta anche in questo finale di stagione, radioso devo dire. Ma sì, ma sì. Adesso capiremo anche perché e vedremo un altro sorriso bellissimo perché il risultato è straordinario, un risultato storico. Parliamo della promozione in eccellenza per il Cus Palermo nel calcio a 11. E' arrivata ieri la promozione sul campo delle provinciali di Trapani contro la Folgore e oggi in studio con noi Pietro Adagna che è il dirigente responsabile del settore calcio del Cus Palermo. Complimenti. Collaboratore del responsabile che è Vanni Randisi. Sorriso a 32 denti per me. Esatto, insomma ce la godiamo. E allora partiamo subito, le vediamo le immagini grazie anche al contributo di Alessandro Castellese che cura per il Cus Palermo tutta la parte comunicativa. Questo era sempre il Trapani, però Cersei Cosmi poi lo vedremo dopo. Si giocava al provinciale di Trapani in campo neutro contro la Folgore, la finalissima del campionato di promozione. Tra l'altro ne approfittiamo Pietro per dire subito, promozione in eccellenza con il gol di Giancarlo Ferrara che è arrivato a 4 minuti dalla fine ha consentito alla squadra di Marco Aprile di raggiungere questo risultato storico. In realtà però la settimana non finisce qua perché adesso c'è la Coppa Italia e domenica c'è la possibilità comunque di aggiungere un trofeo in bacheca. Avete fatto festeggiare anche la Libertas 2010. Sì assolutamente, ieri abbiamo ottenuto un doppio risultato, quello di essere promossi noi nel campionato di eccellenza e con un'ampia rappresentanza di tifosi della Libertas provenienti da Racalmuto. Abbiamo anche fatto festeggiare loro perché giocando domenica prossima contro una squadra che ha già acquisito il diritto a partecipare al prossimo campionato di eccellenza, a sua volta la Libertas senza necessariamente dover vincere la Coppa ha di fatto ottenuto lo stesso risultato. Grazie a noi, infatti a fine partita siamo stati abbracciati oltre che dai nostri tifosi anche dai loro che sono venuti a sostenerci. Abbiamo avuto in loro un ulteriore sostegno. Questo non significa che domenica a noi non si debba giocare per tentare in ogni modo di arricchire la nostra bacheca anche di questo risultato che ci darebbe ancora più prestigio. Intanto salutiamo Enzo Traina in regia, vedremo tra breve l'RVM Cus Palermo-Folgore per quanto riguarda il calcio con le immagini della partita di ieri. Salvatore, sono così la seconda squadra, c'è già la Parmon, Valle in eccellenza, però è così un po' più romantico questo ritorno di una squadra che si chiama Palermo in eccellenza? Romantico sicuramente, però io distinguerei quello che è il calcio del Palermo, che è un calcio a sé, chiamiamolo delle stelle, dei salotti, della televisione, come lo vuoi chiamare lo chiami, dei gossip, eccetera. Da quello che è invece un calcio più sofferto ma, devo dirti la verità, più sentimentale, più romantico e soprattutto più impegnativo da un punto di vista di organizzazione. Io devo dirti la verità, mi piace, mi piacerebbe seguire queste partite, la possibilità che altre squadre riuscissero a raggiungere certi obiettivi. Però, francamente, poi mi fermo dinanzi a delle barriere che sono quasi insuperabili, perché il problema economico, anzi voi avete una struttura, diciamo, che è abbastanza... Devo dire, Salvatore, qua, che mi fa specie dire, intanto che io rappresento indegnamente una struttura che ha 70 anni di attività alle spalle, che da 10 anni ha trovato una nuova casa nell'impianto meraviglioso di Via Altofonte, che tu conoscerai, Campo di Calcio in Erba Naturale, Palasport... Quindi, diciamo, dietro c'è un'organizzazione dal Presidente, l'Avvocato Equizia, scendere a tutti i consiglieri del Consiglio Direttivo, Vanni Randizio in particolare, che da 10 anni giovanissimo si occupa di calcio. È fatto proprio per divertirsi, perché altrimenti poi ci si va a scontrare contro elementi imprescindibili, che sono quello dei quattrini. Cioè non c'è un calcio senza quattrini, un calcio importante senza quattrini. È inutile che noi ci facciamo la testa e diciamo sì, possiamo arrivare... Si può fare tutto nella vita. Il carpi può andare in serie A, ma deve poi alimentare... Sono degli aspetti di romanticismo che secondo me noi incarniamo in una figura che credo poi voi ricorderete benissimo, che è quella di Giancarlo Ferrara, che è il nostro bomber. Stiamo vedendo, insomma, le azioni. Il gol, promozione, a pochissimi minuti dalla fine, lo state vedendo, credo in questo istante, io ancora un po' la pelle loga, rivedendolo. Lui incarna perfettamente quello che ha detto Salvatore, perché stiamo parlando di un ragazzino di 40 anni. Un ragazzino di 40 anni. Io ricordo vent'anni fa avermi fatto impazzire di gioia con Berti sulla fascia sinistra che dibbava di tacco. Il Palermo dei Picciotti fu lui praticamente a... Esatto, quel gol col Cesena ti ricordi? Fece il gol col Cesena e diede un timbro al Palermo dei Picciotti. A quello che sarebbe stato. E questo ragazzino di 40 anni, con l'entusiasmo di uno di 15, con una voglia, una passione indescrivibile, credo che sia, la fotografia, ecco, se mi posso permettere, di quello che siamo noi, al di là dei meriti indescrivibili di tutti gli altri ragazzi del mister e di tutti noi altri che ce ne siamo occupati. Sai la cosa che mi lascia un po' interdetto in queste operazioni? È quando sento di cambi di allenatori, di strutture organizzative, eccetera, eccetera. Perché appunto ritengo che queste siano delle cose che hanno una loro logica, una loro vita, solo se tu tieni stabili i principi per cui stai lottando. Tanto è che, caro Salvatore, nove anni fa il Cus Palermo è iniziato a fare calcio grazie a Vanni Randisi, che resta tutt'oggi l'interlocutore per il calcio del Cus Palermo. E in questi nove anni, partiti dalla terza categoria, e oggi finalmente nella condizione di poter festeggiare l'eccellenza e dirci seconda scuola cittadina, abbiamo avuto in tutto tre allenatori, che sono Andrea Perniciaro, Nando Zappavigna e il nostro Marco Aprile. Quindi questo credo che risponda anche a quello... Mi piace sentirmi, riconoscermi nelle tue parole, riconoscerci, scusa, nelle tue parole. Qua le immagini, ovviamente, la grande festa poi a fine partita, dicevamo doppia festa anche con la Libertas 2010. È già futuro, cioè vi siete goduti ovviamente la festa, ma adesso l'obiettivo quale diventa? L'obiettivo adesso per fortuna non sono il direttore sportivo, che è Dario Biondo, e avrà un bel po' da fare. Certamente ci godiamo il momento e ci godiamo questa settimana che ci porta alla Coppa. Poi cerchiamo di alzare la Coppa e dopo è chiaro che bisogna pensare di dover alzare l'asticella della nostra qualità, perché comunque, sai, siamo dei ragazzi giovani, appassionati, che hanno tanta voglia a cominciare da Vanni Randi si stesso, però l'eccellenza è la serie A dei dilettanti, va affrontata con organizzazione, con serietà, con una programmazione, al di là di tutte quelle cose che ci siamo detti, bisogna impegnarsi, se possibile, ancora un pochettino di più e noi crediamo di avere le possibilità di tentarci, se non altro poi se ci riusciamo, lo dice il campo e i ragazzi che avranno modo di accompagnarci. Neanche una ventina di giorni fa abbiamo celebrato, tra l'altro, a proposito di Cus Palermo, un'altra promozione, quella in A2 della Palla a Mano. Questo tipo di trend positivo non è assolutamente una casualità, cioè esiste davvero una macchina dello sport per quanto riguarda il Cus, che è straordinaria, ne parliamo anche un po', è il vostro segreto, avete un centro sportivo che fa invidia al Palermo Calcio? Assolutamente sì, in via Altofonte la cittadella sportiva universitaria è composta da un campo di calcio in erba naturale manutenuto come lo stadio, una pista di atletica professionale, essendo l'atletica il nostro fior all'occhiello, scudettati in diverse occasioni, palazzetto dello sport, piscina olimpionica coperta, sei campi di calcio a cinque, due campi di tennis, un parcheggio per 500 auto, stiamo parlando di qualcosa che si può definire un fiore nel deserto di una città che dal punto di vista dell'impiantistica sportiva a definire drammatica è poco. Questo è chiaro, è tutti coloro, farei torto a qualcuno a nominarmi, farei torto a qualcuno se ne nominassi qualcuno dimenticando qualcun altro, questo è possibile perché ci sono dei collaboratori e degli addetti all'interno di questa struttura che rendono possibile la sua fruizione al 100% ogni giorno, il consiglio direttivo che ho poc'anzi nominato con il presidente Equizzi in testa e tutti gli atleti che sono la benzina di questa macchina. Devo dirti la verità, una cosa mi sorprende, cioè voi avete tutte le strutture e le possibilità di questo mondo per fare ovviamente una serie di operazioni sportive interessanti e intelligenti, l'unica cosa che vi manca è la scuola, perché chi vi manda? Cioè gli universitari dovrebbero essere già pronti per essere da college, cioè voi dovreste essere il college degli studenti, invece se tu vai nelle scuole elementari non ci sono palestre, non ci sono strutture, se vai nelle scuole medie o nelle scuole negli istituti liceali eccetera non trovi assolutamente questa possibilità, quindi poi voi siete costretti a inventarvi situazioni per tenere un po' alta l'asticella, la verità è questa qui. È la vocazione di questa società, ti devo dire la verità, e quindi inevitabilmente è questo il nostro compito, purtroppo la scuola, la didattica è in mano a un sistema elefantiaco che insomma non mi permetto di entrare nel merito, non so perché sia così difficile valorizzare lo sport all'interno del percorso didattico dei ragazzini. Di fatto noi sappiamo che siamo un punto di riferimento oramai solido in questa città per tutti gli universitari, il nostro centro è allora accessibile a costi minimi proprio che giustifichino la fruizione, la garanzia dei servizi minimi per loro e questo credo che è la cosa più importante. Dopodiché è chiaro... Se un ragazzo di scuola media ha talento e viene da voi, che fate? Se parli di calcio, perché di questo io mi occupo... Io parlo di calcio, ma parlo di tante discipline. Chi ha talento ha quanto serve per fare sport, quindi è sempre benvenuto. A prescindere dal fatto che sia universitari o meglio. Assolutamente sì. Qual è poi il rapporto fra chi si allena da voi, con responsabilità ovviamente, e il rapporto che ci può essere tra una squadra di calcio e uno che viene dal di fuori, insomma non è più un rapporto di struttura scolastica. No, effettivamente non lo è. Forse quello su cui dovremmo lavorare è connettere un pochettino di più la nostra squadra, parlo di calcio, ma forse questo vale un po' per tutte, con l'università, con gli iscritti all'università. Forse questo senso di appartenenza ancora non l'abbiamo creato, ma lavoreremo anche per questo. La laurea ad onore, ma Giancarlo Ferrara in quale disciplina la state programmando? Impegnativa là, vorrei parlare col Ministero dell'Istruzione, ma io gliela do senz'altro. Grazie a tutti.